Il principe William manifesta seria preoccupazione per la salute della principessa Kate, la situazione critica si sviluppa a seguito della sua operazione all'addome, ma il principe è stato impedito dal visitarla presso la rigida London Clinic. La riservatezza della famiglia Windsor è talmente estrema che persino il principe Harry è stato tenuto all'oscuro della situazione, apprendendo le notizie sullo stato di salute della cognata tramite notifiche push up dei principali media online. Questo retroscena ha suscitato interesse globale evidenziando l'insolito livello di segretezza all'interno della famiglia reale britannica. L'incapacità del principe William di accedere alla moglie durante un momento così delicato aggiunge un elemento di drammaticità questa vicenda, mentre l'assenza di informazioni fornite al principe Harry solleva interrogativi sulla gestione delle comunicazioni interne nella famiglia reale. Tutti i parenti stretti, come da protocollo, sono stati avvisati in modo diretto, ma anche gli odiati Harry e Meghan avrebbero dovuto essere avvisati, mentre si dice che il fratello di William avrebbe appreso tutto dal gossip. Allo stesso modo hanno preso della notizia di Re Carlo che dovrà curare la sua prostata.